In questo video, vi mostrerò come scaricare e installare iOS 18.1, l'ultimo aggiornamento rilasciato da Apple che introduce nuove funzionalità, tra cui Apple Intelligence, per iPhone. Per installare l'aggiornamento, accedete alle impostazioni del vostro dispositivo. Scorrete verso il basso e selezionate in Generali. Successivamente, toccate da Aggiornamento Software. Dopo un breve periodo di caricamento, vi verrà mostrata la disponibilità di iOS 18.1. Selezionate da Aggiornar e inserite il codice di sblocco del vostro dispositivo. L'aggiornamento verrà scaricato e, al termine del download, l'installazione si avvierà automaticamente. Vi verrà richiesto di confermare l'installazione. Selezionate Installar oran per procedere. iOS 18.1 introduce numerose novità e miglioramenti. Consiglio vivamente di installarlo sul vostro iPhone. Se questo video vi è stato utile, vi invito a mettere un mi piace e iscrivervi al canale. Iscriviti al canale. Grazie. Grazie.